Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Falso allarme bomba oggi al pronto soccorso di Treviso. Un uomo con problemi psichici e di etilismo è stato rintracciato e ricoverato all'ospedale di Treviso dopo che aveva fatto una telefonata annunciando la presenza di un ordigno al pronto soccorso del nosocomio. L'uomo che al telefono aveva dato le sue esatte generalità ha fatto in ogni caso scattare i controlli e dopo un'ora di accertamenti da parte dei vigili del fuoco e forze dell'ordine senza interruzione alcuna dell'attività del servizio sanitario la situazione è tornata alla normalità. I carabinieri di Caorle in provincia di Venezia hanno tratto in arresto la scorsa notte un ragazzo di 20 anni del Pordenonese trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish. Il giovane è fermato intorno alle 2.30 per un controllo mentre transitava a lungo via Don Dossetti a Caorle alla guida di un utilitario era apparso particolarmente nervoso ai militari. A colpire i carabinieri il forte odore di marijuana uscito quando ha aperto la porta dell'auto. A quel punto gli uomini dell'arma hanno condotto il giovane presso la stazione dei carabinieri al termine della perquisizione del veicolo sono stati trovati nascosti nel vano motore tre sacchetti di cellophane contenenti lo stupefacente. Data l'entità del ritrovamento i militari hanno deciso di estendere la perquisizione anche in casa del ragazzo e qui in camera da letto sono stati trovati gli altri 15 grammi di hashish e due bilancini di precisione. E adesso invece parliamo di un bambino, un bambino di un anno e mezzo rimasto ustionato dal caffè. È stato trasportato al centro grandi ustionati di Verona in gravi condizioni un bambino che si è bruciato con il caffè bollente. Il piccolo un anno e mezzo era in vacanza con i genitori in un campeggio del Bresciano. L'incidente ha mostrato subito la sua gravità e dopo una prima valutazione medica è stato deciso il suo trasferimento nella struttura specializzata. Tempi più rapidi per mettere in sicurezza il ponte degli Alpini a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. L'abbassamento della struttura a linea è progressivo in aumento dai 3 centimetri che sono stati registrati nell'intero 2013, si è passati a 4 centimetri nel 2014, mentre quest'anno in meno di tre mesi, dal 20 aprile al 10 luglio, l'abbassamento del ponte è stato di 5 centimetri. Il Comune ha quindi deciso una nuova tabella di marcia nel mese di settembre, progetto esecutivo e aggiudicazione dei lavori. L'Ansa svolge un ruolo essenziale in particolar modo a servizio delle istituzioni, ma non solo, vogliamo dire noi, per diffondere informazioni vere e certificate. Si tratta di uno strumento importantissimo, è quanto afferma la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, che è riunita in assemblea plenaria a Roma, ha approvato un ordine del giorno su proposta del presidente Piero Lacorazza, in merito al piano di riorientamento e sviluppo presentato dall'Agenzia di stampa Ansa. Considerato che il taglio dell'organico della principale agenzia di stampa nazionale incide profondamente sulla qualità dell'offerta giornalistica e sulla sua importante diffusione territoriale, prosegue la nota della conferenza, manifesta la propria solidarietà nei confronti dell'Agenzia e dei giornalisti dell'Ansa, principale agenzia di stampa nazionale, presidio indispensabile dell'informazione e della vita democratica del Paese. Auspicando quanto prima un confronto e un accordo tra azienda e parti sociali, si impegna anche a sensibilizzare il raggiungimento di un accordo e a sostenere in tempi di nuovi strumenti di comunicazione il diritto dei cittadini all'informazione e la sua diffusione territoriale, conclude la nota. Stanno scatenando una scia di polemiche le novità che vuole introdurre il governo sulla sanità pubblica. Per il ministro i medici dovranno tagliare tutti gli esami e la diagnostica considerati inutili. Per i medici che non si atterranno alle regole scatterà una riduzione dello stipendio e molti si chiedono se la salute del cittadino in questo modo sarà tutelata o andrà peggiorando in favore del risparmio. Mentre si parla di medicina preventiva e di screening per prevenire eventuali patologie o stroncarle sul nascere, il ministro della Salute vuole tagliare visite ed esami che ritiene inutili. L'obiettivo del ministro è abbattere un costo di 13 miliardi di euro l'anno che vengono addebitati a costi per diagnostica varia a scopo difensivo. Abbiamo calcolato, spiega Lorenzin, che la medicina difensiva costa appunto una cifra pari a 13 miliardi di euro l'anno, il che significa 200 euro a testa di tasse pagate in più annualmente da ogni cittadino. Una cifra che invece potrebbe essere reinvestita, ad esempio, in prevenzione. Lorenzin parla anche del taglio del salario ai medici di base in caso di abuso di prescrizioni, una sorta di responsabilizzazione e va a disincentivare l'abuso prescrittivo che costa queste cifre enormi. Alle polemiche il ministro replica che ognuno deve rispondere alle proprie responsabilità e non c'è alcuna volontà persecutoria nei confronti dei medici. Presto dovrebbe arrivare il decreto per stabilire i criteri sulla base dei quali potrà essere definita l'appropriatezza delle prescrizioni mediche. Parliamo di un incidente stradale avvenuto nella notte appena trascorsa. Un motociclista di 34 anni di San Martino di Lupari della provincia di Padova è uscito di strada con la sua potente moto. Il giovane è finito dopo un volo di 30 metri contro il muro di una casa. Ai primi soccorritori le sue condizioni sono apparse disperate. Poi fortunatamente una volta trasportato all'ospedale di Cittadella i medici hanno escluso pericoli di vita sul posto per i rilievi, la polizia stradale. Parliamo di un'operazione imponente della Guardia di Finanza sul territorio padovano precisamente a piove di sacco. Sentite. La Guardia di Finanza di Padova ha eseguito un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Padova relativo a beni immobili e mobili e rapporti bancari per un valore di oltre 1 milione e 100 mila euro. In particolare sono stati posti sotto sequestro due abitazioni, un capannone industriale, un terreno, due auto di grossa cilindrata, l'intero capitale sociale di una SRL e sei conti correnti. L'aggressione patrimoniale ha tratto origine da articolate verifiche fiscali svolte dai militari della tenenza di piove di sacco nei confronti di nove aziende operanti nel settore dell'abbigliamento. Le ispezioni contabili e le indagini bancarie hanno permesso di individuare in due cittadini cinesi i beneficiari del complesso meccanismo di frode che, attuato mediante l'uso di fatture false, ha consentito di evadere complessivamente circa 5 milioni di euro tra imposte dirette e IVA. Uno dei responsabili, poco dopo la conclusione delle verifiche fiscali, ha ceduto il proprio patrimonio immobiliare a favore di alcuni congiunti. Tale comportamento anomalo è stato immediatamente segnalato alla competente autorità giudiziaria, in quanto ritenuto finalizzato ad evitare le successive procedure di riscossione dell'ingente debito erariale. Nell'attività svolta si è fatto ricorso al sequestro per equivalente che consente di aggredire beni e proprietà nella disponibilità di coloro che vengono indagati per reati fiscali. Ancora una volta non si è proposto alcun compratore per l'asta giudiziaria fissata per oggi sul complesso dell'ex Chiari e Forti a Silea, in provincia di Treviso, appartenuto al gruppo Acquapia Antica Marcia, oggi in procedura di concordato preventivo. La base era fissata in 7,3 milioni, cifra derivante da un ribasso del 20% su quello stabilito per la precedente gara del 9 aprile scorso. La riduzione era stata accentuata rispetto al 15% previsto a causa del danno subito nel frattempo dal patrimonio per l'incendio che lo scorso aprile aveva interessato l'ex mulino Tosi. Un prossimo tentativo di vendita sarà tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. Si è conclusa in maniera positiva la scomparsa di una ragazza di 15 anni. La giovane era fuggita di casa da Genova a trovarla a Venezia agli agenti della Polfer di Mestre. Nelle ultime ore vi era stata una grande apprensione per le sorti di una ragazzina di 15 anni genovese della quale non si avevano più notizie. L'hanno trovata gli uomini della Polfer di Mestre. L'adolescente era scappata di casa senza lasciare alcuna traccia, alimentandone i familiari a pressione e paura. Gli agenti veneziani erano stati contattati dai carabinieri del capoluogo Ligure, ai quali la madre della ragazzina si era rivolta per denunciare la scomparsa, riferendo anche l'intenzione espressa dalla figlia di raggiungere in treno il fidanzato residente a Udine. La Polfer ha così valutato gli orari e i treni che la quindicenne avrebbe potuto prendere, focalizzando l'attenzione sul frecciabianca proveniente da Milano. Con in mano una foto della giovane, i poliziotti hanno ispezionato i vagoni, trovando in uno di questi la giovane Ligure. Il Vicenza Calcio ha deciso di ritirare la maglia numero 3 indossata in passato da Giulio Savoini, il recordman di presenze nella storia bianco-rossa, scomparso sabato scorso e i cui funerali si sono ottenuti questa mattina in Duomo a Vicenza. Accogliendo la proposta di numerosi tifosi, sottolinea il club Berico, il Vicenza Calcio ha scelto di ritirare la maglia numero 3, onorandone così per sempre la memoria e l'eredità sportiva. È la seconda maglia che il Vicenza Calcio ritira dopo la numero 25 di Pier Mario Morosini. Domani sera sul canale 73 della nostra emettente, sul canale 73 di Telecittà per il Veneto e 693 per il Friuli e Venezia Giulia, sarà in onda un concerto con numerose orchestre, un appuntamento in diretta. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per il territorio della Rivera del Brenta colpito dal tornado. Musica e solidarietà in diretta, l'invito ovviamente a partecipare è rivolto a tutti i nostri telespettatori. L'appuntamento è in piazza Matteo Vanzanna a Camponogara, in provincia di Venezia, dalle 21 in poi. Vasco Rossi, ma anche Piff, Giuliano Montaldo, Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore o Arturo Bracchetti ci sono alcuni nomi dei protagonisti del cinema nel Giardino, la serie di appuntamenti, eventi promossi dalla Biennale di Venezia nelle giornate della Mostra del Cinema dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Non tanto una nuova sezione della mostra, piuttosto la volontà della Biennale di configurare uno spazio inedito e soprattutto di aprire il festival a tutti con incontri e proiezioni. Ed ora uno sguardo alla situazione meteo, è in arrivo un cambiamento con un peggioramento delle condizioni climatiche a partire da domani, tra mercoledì e giovedì fase di tempo instabile a tratti perturbato, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale, a tratti anche diffusi e in alcuni punti anche localmente intensi. Possibili fenomeni con forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi e vi anticipiamo già che nella serata di domani all'interno del Tg andrà in onda uno speciale dedicato ai profughi e all'accoglienza da Eraclea in provincia di Venezia. Grazie per la vostra attenzione e buona serata. Grazie per la vostra attenzione e buona serata.